Gli ululati razzisti della tifoseria veronese, il pallone scagliato con rabbia verso la curva giallo-blu e la minaccia di lasciare il campo. Mentre il mondo del calcio esprime solidarietà a Mario Balotelli dopo l'episodio di domenica durante la partita a Verona-Brescia, Luca Castellini, esponente di Forza Nuova e leader degli ultraveronesi, rincara la dose ai microfoni di Radio Cafè. Noi ci abbiamo anche noi un negro che ha segnato ieri e tutta Verona gli ha battuto le mani. Balotelli secondo me è italiano perché è la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano. Io quando vedo la nazionale francese che sono tutti neri per me non è la nazionale francese. I cori sono stati sentiti anche dagli ispettori federali presenti al Bente Godi. Scontata una multa per la società, resta da vedere se il giudice sportivo prenderà anche altri provvedimenti.